Un saluto a tutti voi che state guardando questo video, qui è Alessio Spina che vi parla. Come sapete io mi occupo principalmente di cinema erotico, di cinema art e scrivo articoli qua in rete, una menzione di merito a chi li legge. Quest'oggi sono particolarmente soddisfatto perché mi trovo a parlare di cinema erotico e di cinema art con chi ne ha fatto la storia, con chi ha contribuito a rendere ai massimi livelli in Italia e cioè con il regista Andy Casanova. Che saluto, ciao Andy. Ciao Alessio, come stai? Sì sta bene, fa un po' caldo ma comunque ce la capiamo diciamo, finché si parla di cinema va sempre bene e quindi in questo caso ha maggior ragione perché ho un interlocutore diciamo di tutto rispetto come appunto sei te. Andy Casanova, come ho detto prima è un regista storico nel senso che ha cominciato a far parte di questo settore in un'epoca in cui in Italia, specifico appunto in Italia, si faceva cinema a ottimi livelli quindi in cui il settore dell'arte, il settore dell'erotismo poteva essere ancora definito a piano titolo come cinema e non come magica, come dignetta o come scenetta ma era cinema. quindi si facevano film e Casanova faceva i film. Li fa ancora, li fa tutt'oggi quindi il fatto di definirlo regista storico forse non so quanto gli possa far piacere. C'è l'idea del vecchio praticamente. Storico significa sei vecchio ma adesso va di moda a dover proprio interagire con diciamo quelli che hanno lavorato tanti anni nel settore dell'arda, no? Le nuove leve come nuova moda c'è quella di dare dei vecchi, no? E quindi sei stato anche fin troppo gentile darvi dello storico. Poi come già se l'ha avuto modo di parlare, quando si parla di storico si cercano sempre, si tirano sempre in ballo delle figure mitologiche che non esistano più, no? E invece te esiste ancora appunto sia... Meno male, meno male. ...che professionalmente e anzi oggi ti si vede impegnato e chi ti segue sa che sei impegnato in numerose produzioni che mantengono sempre quello stile tuo inconfondibile che ti ha reso appunto unico in Italia, unico prima in un contesto comunque di alto livello e di alto profilo perché c'erano anche altri registi che come te facevano comunque determinate prodotti e a maggior ragione è unico oggi perché non c'è più nessuno che li fa in Italia o quasi o quasi e quindi insomma unico più che mai in questo senso. Per cui tra i tanti argomenti con cui uno potrebbe cominciare una conversazione con te che è appunto andando a ritroso, c'è invece la possibilità di parlare della cronaca, dell'attualità del fatto che poche settimane fa è uscito un tuo film che è quello che vediamo qua dietro alla tua sedia, al tuo trono dietro le spalle, dietro le mie spalle dai Alessio non ti intrippare un personaggio, un recensore come te sei emozionato, peggio di me io e te siamo poi dei timidi che solitamente stiamo sempre al di dietro insomma cerchiamo di evitare un pochettino le folle quindi mi fa piacere io cerco volontariamente di evitare le folle perché non cerco l'approvazione capito? esatto non cerco pubblicità e forse questo dà noia però questo è un altro discorso allora è appunto le tre chiavi del terrore il film è nuovo che è uscito qualche settimana fa di cui io comunque ho già parlato e che ho definito non so se è per scritto o comunque oralmente ma questo poco diciamo cambia ho definito come una summa di parte del tuo cinema cioè di quella parte di cinema che si occupa principalmente di tematiche oscure sia in chiave psicologica che in chiave appunto horror tradizionale che è appunto un trademark tuo un marchio di fabbrica perché non è il primo film che fai in questo ambito allora la prima cosa quindi che ti chiede a proposito di questo film che è stato uno sforzo produttivo importante per più versi è un po' come è nato quindi il progetto come è venuto fuori cosa riguarda e quindi facciamogli un po' il DNA questo film descriviamo un po' cos'è ma guarda secondo me bisognerebbe partire un po' a retroso e spiegare magari alle nuove generazioni perché io ho saltato due generazioni mi sono catapultato improvvisamente in un mondo negli ultimi anni negli ultimi 5-6 anni in un mondo completamente diverso dove le persone magari si interrogano chi sia questo regista Andy Casanova perché il mercato si è saturato anche di altri prodotti alternativi o il sex scene gonzo anche molto estreme è come se ci fosse stato appunto un salto quantico quasi io nasco io ho iniziato 25 anni fa e tu lo sai all'incirca quasi per gioco facevo il cuoco e improvvisamente questa grande passione ha fatto in modo che io incontrassi un produttore molto famoso all'epoca ma comunque rimane sempre come un mostro sacco nel panorama dell'hard Silvio Bandinelli il quale mi propose un lavoro una collaborazione con lui ed iniziamo subito questo progetto un progetto che andava al di là della singola scena girata io avevo intenzione di non mettermi in concorrenza con tutti gli altri registi che in quel momento lavoravano ma di fare uno sforzo superiore quello di creare delle piccole sceneggiature e dare corpo appunto a degli episodi con trama è stata sicuramente una scelta vincente perché mi sono ritagliato una fetta di pubblico notevole anche se molto contestato all'epoca perché le mie tematiche erano abbastanza forti andavano a esplorare dei mondi abbastanza borderline insomma, il genere tabù, il genere un po' violento ma non volevo mettermi in concorrenza sapevo che se io avessi fatto scenette amatoriali semplici sarei stato sopraffatto da chi magari questi film mi faceva anche meglio di me per potenzialità magari li girava all'est con location spettacolari con attori più performanti noi invece in Italia purtroppo sì, all'epoca forse fino a dieci anni fa avevamo attori veramente valide oggigiorno insomma le prestazioni sono medio basse, scadenti mi dispiace dirlo per quelli con cui sta collaborando ma questa purtroppo è la realtà un po' forse anche causa del mercato essendoci meno mercato insomma circolano meno soldi in questo mondo e quindi ci sono meno attori che si mettono in gioco e quindi la selezione è veramente scarsa e quindi anche le prestazioni comunque indipendentemente da questo avevo fatto quella scelta cioè di fare film con trama chiaramente esplorando tanti tanti mondi uno in particolare mi stimolava che era quello appunto dei film dark un pochettino cupi quindi i thriller, gli horror facevano parte anche un po' della mia cultura a livello proprio di consumatori io sempre anche da ragazzino mi piace vedere questi film e come allora non riproporli in versione hard e questo primo esperimento nacque con un film a cui io sono molto legato particolarmente legato che era Ultimo atto quella splendida, incantevole, incommensurabile Letizia Bruni che tra l'altro è stata anche mia compagna per due anni e mezzo, tre che io ritengo forse l'attrice migliore in assoluto una sceneggiatura scritta proprio nelle notti con lei accanto la quale con la penna in mano io dettavo e lei trascriveva questa sceneggiatura una sceneggiatura molto molto bella è stato un esperimento proficuo ho avuto un enorme successo e ogni tanto ogni tanto mi sono riproposto con altri titoli anche dopo l'esperienza appunto di regista con Showtime quindi con Silvio Bandinelli nella nuova generazione negli ultimi due o tre anni ho prodotto anzi forse anche quattro o cinque ho prodotto altri film sempre sulla stessa linea l'ultima notte prodotto io sono regista ma prodotto insieme a Gabriel De Sica e a Rossella Visconti l'ultima notte con il fantastico esiderante Davide Di Porto che poi conoscete perché ha fatto una edizione una sola edizione di l'isola dei famosi ma poi ho partecipato qualche sketch simpatico veniva deriso ho preso un po' per il culo dalle iene e altri programmi che adesso non ricordo tutti e poi La Mantide altro film molto molto bello sempre con Rossella Visconti che è portato un remake di una sceneggiatura molto più easy molto più leggera fatta sempre con Letizia Bruni questo l'ho riesplorato e ho creato un film che io consiglio la visione se lo trovate insomma in vari siti in varie piattaforme l'orfana che non è proprio un horror però insomma però insomma con alcune sfaccettature fatte e poi questo ultimo film che sono le tre chiavi siamo arrivati siamo arrivati dopo una storia siamo arrivati alle tre chiavi del perore mi aveva colpito nell'età adolescenziale di un film analogo cioè che da cui io mi sono ispirato perché non è che poi cambi molto anche il titolo lì erano le cinque chiavi del terrore io per esigenza insomma di dover girare comunque un film con tre scene hard il cui sono protagonista Rossella Visconti Susie Q e la bellissima Lady Blue ho fatto le tre chiavi del terrore quindi è stata una scelta io dopo diciamo dei lavori dei lavoretti più leggeri ho voglia di di impegnarmi di fare un film un po' un po' più impegnato e questo era uno era un progetto sicuramente a cui io ambivo da diverso tempo da diversi anni quindi le tre chiavi del terrore è un film in collaborazione sempre con Gabriel Vesic a cui ho curato un montaggio spettacolare è come se fosse veramente un film vero nonostante poi i contenuti hard scenografie location atmosfera veramente spettacolari quindi un film luci spettacolari come luci spettacolari luci spettacolari la fotografia per me è importantissima chi mi conosce mi segue lo sa che io curo molto i dettagli questo che mi ha entusiasmato di questo film cioè che tutti i dettagli extra hard sono stati curati ai massimi livelli e sono stati curati ai massimi livelli sempre rispettando quello che è il tuo stile insomma anche le scene hard che corrispondono diciamo sono contestualizzate benissimo all'interno della della trama e quindi tutto il progetto God è di un'atmosfera senza un goccio di sangue questo va detto perché alla fine è un horror quasi gotico perché richiama appunto alle città del terrore quindi è un'epoca negli anni 60 in cui andavano questi tipi di horror più gotici anche non sanguinolenti ma di atmosfera della sottile inquietudine che poi cresce e quindi è un film che appunto come si è detto ti fa ritornare diciamo in un sentiero che te ben conosci e quindi l'hai fatto con autorevolezza insomma non hai dovuto non hai fatto niente di nuovo ma allo stesso tempo il prodotto si sente che ti ringrazio però ci tengo a citare sempre che non avrei potuto realizzare un prodotto a questi livelli senza l'aiuto magistrale di Gabriel il quale mi ha supportato non solo per quanto riguarda il montaggio ma anche durante le riprese ci alternavamo l'uno all'altro a volte ero stanco io e quindi utilizzava la telecamera lui a volte era distrutto lui e quindi mi passava la telecamera a me ci siamo intervallati ci siamo aiutati l'uno con l'altro ma uno non è migliore dell'altro anche il De Sica è veramente una persona per me molto importante che ho scoperto negli ultimi anni e con cui c'è questa collaborazione che appunto ormai dura da parecchio e quindi un grazie speciale a lui e a tutto il suo operato ecco senza di lui questo film non avrebbe raggiunto questi traguardi questa bellezza estetica anche perché avete fatto tutto in due giorni poi no? le riprese sono state fatte in due giorni dopo c'è stato poi tutto sì quasi 24 ore su 24 infatti qualche giorno fa ho fatto realizzare agli attori un video testimonial sul set tutte e due lamentavano questi orari incredibili anche notturni pur di finire e terminare questo film massacranti ma chi lavora con Andy Casanova ormai è abituato lo sa che è molto esigente per quanto riguarda appunto la ma io do l'esempio forse le persone non lo sanno non sono il classico regista che si siede sulla sedia motore action e se ne sta in disparte a osservare tutto ma Casanova è in prima fila è il capitano il comandante il comandante sta in prima fila non sta nelle retrovie e quindi sono il primo a fare questo sforzo dando l'esempio a volte non mangio neppure a volte non vado neppure al gabinetto ho una specie di blocco renale per cui quando io giro praticamente mi si blocca tutto fin quando poi ecco si finisce allora vado in down la stanchezza fa sempre ma fino a quel momento si è tutti impegnati si è tutti concentrati non si guarda l'orario l'orologio e si prosegue ad oltranza certo quindi questo è un po' il quadro diciamo il contesto in cui è nato questo film che appunto sicuramente si fa apprezzare per numerosi da numerosi punti di vista ecco diciamo quindi non dal dal solo punto di vista del performativo diciamo ma anche appunto per tutto questo contesto che c'è intorno sempre restando appunto in chiave in chiave in argomento diciamo ecco prima di questo non tutti sanno forse che Casanova aveva in progetto no questo non ultimissimamente ma qualche anno fa un film no un progetto che si chiamava The Beast si chiamava La Bestia no? sì certo ecco e in parte forse anche quello chissà avrebbe avuto le stesse per quel poco di grafico che io ho visto era un diciamo un progetto nato in maniera molto molto elaborata che magari avrebbe avuto la stessa qualità di di Le Tre Chiavi del Terrore se ci fosse stato modo di realizzarlo poi non è stato realizzato però c'era di mezzo una signora porno star e non solo porno star che si chiama Terra Patrick quindi insomma è riuscito a trovarti anche un nome più che una porno star io la definirei una signora del porno sì perché la classe la classe di di Terra Patrick e appunto di Terra Patrick che si parla è è incommiabile descrivibile è un'eleganza un'eleganza di altri tempi un'eleganza che non si incontra più nelle attrici contemporanee ora la vulgarità ha preso il sopravvento pensando che sia quella la cosa essenziale per poter oggigiorno emergere nell'ambiente dell'hard ci sta che io sia un nostalgico ma già dal momento in cui noi comunque una certa vulgarità la esprimiamo nel film perché poi alla fine si fa sesso io penso che comunque a livello diciamo estetico una persona con una dialettica che non si scompone un modo di comportarsi anche elegante sopraffino faccia la differenza sopraffino forse ho esagerato non mi veniva il termine degli suggerimenti ogni tanto adesso se tu sei sensore se tu intellettuale io sono una battaglia lo sai una persona di classe una persona di classe ecco non mi sfuggiva il termine classe di determinati apportamento la nuance di determinati di determinati personaggi insomma è chiaro che fanno la differenza e danno quel qui in più al prodotto che stai facendo lì insomma in ogni caso c'era questo accordo tu conosci le piattaforme di crowdfunding esatto quindi il film si sarebbe realizzato qualora noi avessimo raggiunto l'obiettivo specifico di ottenere quei soldini che ci sarebbero serviti per appunto fare il film questo non è avvenuto quindi le piattaforme erano Indiegogo e Kickstarter ma chiaramente non occorreva una campagna promozionale che già quella necessitava di fondi perché chi non ha soldi per promuovere anche campagne di questo tipo questo l'ho scoperto poi strada facendo difficilmente riesce ad arrivare all'atto finale cioè ad arrivare a realizzare questa raccolta fondi e quindi il progetto si è arenato purtroppo e non l'abbiamo potuto realizzare non l'ho potuto realizzare però un futuro con qualche altro nome come magari quello stesso certo libro comunque insomma libro similare poi tra l'altro sul mio sito c'è questa possibilità di partecipare dei crowdfunding quindi do la possibilità ad alcuni appassionati di finanziare un film dove addirittura possono essere sul set dirigere le scene sul mio set e quindi promuovere anche il film partecipando anche agli incassi stessi eccetera del film realizzato insomma sono iniziative sperimentali ma che comunque sono interessanti certo sì metteteci la faccia insomma no perché comunque lui ce la mette la faccia io ce la metto la faccia il nome e parlo di di queste cose quindi chi gli interessa un pochettino far parte di questo universo comunque conoscerlo non è che deve stare dietro la tastiera dietro lo schermo la tastierina e basta bisogna un po' mettersi in gioco no? attrezzarsi ormai è finito il mondo delle delle vacche grasse mi dispiace dirlo per molti che vorrebbero entrare in questo mondo anche in una forma diciamo completamente gratuita purtroppo non è facile entrare in questo mondo perché ormai le realtà anche produttive scarseggiano anzi paradossalmente sono veramente minime le possibilità c'erano due o tre case di produzione ma poi il giochetto è finito una volta c'era la possibilità di provare partecipare introdursi in questo in questo mondo oggigiorno bisogna investire un pochettino ci sono tanti gli attori che vorrebbero entrare aspiranti attori però quando si parla di metterci quasi tutti dicono di essere dei grandi performer di riuscire a portare a casa la scena perché loro comunque nel loro privato riusciranno sicuramente anche davanti alla telecamera non avere suggezione ma quando io dico loro io chiedo ma tu sinceramente facciamo una specie di accordo insomma tu dici che riuscirai a portare a termine la tua scena il tuo test la tua prova saresti allora in grado anche di coprodurre insieme a me facciamo metà metà 50-50 ecco allora cominciano un pochettino a ritrarsi a non concedere avere dei dubbi e poi si dileggono e spariscono certo quindi non è per tutti non è per tutti io poi ho questa capacità di riconoscere quasi a colpo d'occhio un ospirante attore che possa riuscire nella nella sua prova nel suo tentativo oppure no solitamente Alessio sono quelli stronzi quelli più stronzi sono quelli che funzionano quelli che perdonatemi il termine hanno un po' la faccia come il culo cioè sono persone che non sono non hanno quella sensibilità troppo troppo sensibili persone che se io dovesse anche avere un improvvero nei loro confronti sarebbero comunque continuamente concentrati sull'aggetto del desiderio che in quel momento la ragazza l'attrice devono adorare non è per tutti ragazzi non pensiate che sia semplice non pensiate che sia un fattore di chimica cioè di utilizzare soltanto sostanze che possono fare indurire il membro non è non è non è solo quello la componente psicologica è l'80% poi la sostanza aiuta diciamo il Viagra o qualche altra qualche altro farmaco può aiutare ma non è non è fondamentale la cosa fondamentale è proprio come sei predisposto a livello la testa è l'80% è un discorso che ci riporta sempre al al tipo di film che fai te cioè comunque una tipologia di personaggi che di solito studi per i film che hanno sempre con forte componente anche cerebrale cioè sono personaggi studiati anche psicologicamente che non fai mai agire i personaggi solo come performer hanno anche una loro dimensione sono tridimensionali diciamo hanno anche la loro dimensione psicologica che te tratteggi nella sceneggiatura e li fai diventare un po' dei personaggi credibili anche in quanto persone penso come dicevo anche prima fatale perché è uno dei film preferiti dove c'è sia la dark led che il personaggio maschile che sono dotati di una forte componente psicologica e che quindi ecco questo che rende questo tipo di prodotti che è sempre fatto dei prodotti assimilabili proprio a dei film tradizionali quanto a studio psicologico dei personaggi insomma potrebbero essere anche dei film erotici volendo insomma quindi come si facevano anche nell'anni 90 dei film insomma che hanno una validità oggettiva al di là poi del bonus art che ci viene inserito dentro ecco in questo senso quindi film con trama film con dei personaggi validi anche nelle scene di raccordo in quelle che comunemente di solito vengono nelle scene di raccordo e che invece ti attendi come scene valide dal punto di vista drammatico quindi scene che comportano una certa consecuzio diciamo degli eventi ecco questo tipo di cinema qua ti rende paradossalmente oggi come un autore di nicchia rispetto alla tendenza generale del panorama dell'art ecco e questo è un po' perché io lo chiamo paradosso lo chiamo paradosso perché come già ho avuto modo di dirvi se io vent'anni fa o qualcosa di più fossi andato nell'angolo di una videoteca avrei trovato per primi entrando i film tuoi o i film di altri registi che come te avevano questa attitudine diciamo narrativa e questi poi questa vellità di inserire sempre scene comunque in un contesto e dopo andando sempre oltre passando oltre avrei trovato dei film più estremi oggi invece un po' perché internet ti fornisce tutto nello schermo un po' perché evidentemente i tempi sono cambiati le scene più estreme sono diventate banali io vedo gente che mastica termini con una nonchalance una doppia penetrazione una tripla penetrazione davanti dietro sinistra destra con un modo di fare che in confronto i telecronisti delle partite di calcio sembrano delle educande e invece quando si parla di film di nicchia viene fuori il film di Casanova che magari ha meno estremismo nella scena hard e paradossalmente è un film per pochi mentre invece una volta erano i fetish estremi i film per pochi che erano ricercati con una certa brama all'interno di quelle che una volta non le sale a lucirosa ecco te sei cosciente quindi che oggi come oggi fai film per poca gente o no perché è importante anche questo no? Tu sai già la risposta perché ci siamo già confrontati in passato parlandoci perché io e Alessio adesso mi stai intervistando ma abbiamo di quelle conversazioni che mi si lamenta anche la fidanzata no? Perché sono talmente lunghe mi si scarica e ci si scarica il cellulare a vicenda comunque indipendentemente da questo no io non guardo quello che il mercato propone non sono mai non ho mai seguito il mercato io faccio i film perché piacciono a me indipendentemente da quello che maggiormente va o non va non ho mai seguito appunto questa regola cioè la regola della moda nonostante abbia esplorato anche il mondo feticista mi sia sia spinto anche no? ho girato anche un film ultimamente con Proof è stato è stato una sfida più che altro ma io faccio film per me stesso io devo godere nel fare il regista di sentirmi regista di fare un prodotto di qualità superiore almeno per quanto mi riguarda poi magari il pubblico dice ma a me non piacciono i tuoi film benissimo perfetto il mondo è vario le produzioni sono tante sono infinite ed è giusto che ognuno sia contenti come meglio crede io infatti non critico assolutamente chi fa scelte anche di estremo esasperato fin quando è tutto nel lecito nel consentito è giusto che ci siano comunque un po' tutti i generi ognuno sceglie quel che meglio crede per sé io continuerò sempre a fare e a realizzare film con trama per quelle persone che sono un po' più celebrali quindi per l'eccitazione psicologica per l'erotismo poi magari farò bene farò male ma a me poco importa io continuo per la mia strada e ringrazio tutti quelli che insomma mi hanno supportato in tutti questi anni quindi tutti gli utenti che sono affezionati appassionati ai miei film siamo sulla stessa linea d'onda chiaramente non si può piacere a tutti assolutamente comunque questo è un dato di fatto un paradosso del del mondo moderno dell'estremo è diventato è diventato banale e invece il 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 normale diciamo il castigato il più il più diciamo così implicito è diventato l'invento perché appunto la gente evidentemente non ha più il mondo cambia ed è bene così è bene anche così si può essere adesso sempre anche solo ed esclusivamente dei nostalgici come siamo più o meno io e te a volte bisogna abbracciare anche il nuovo sì 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 nostalgici ma non conservatori perché di fatto esatto non sono conservatore nostalgico però sì perché oggi vedo che manca della qualità di solito non posso constatare questa cosa però conservatore no detto questo ecco il punto mi hai già risposto qual è quindi lo spettatore tipico lo spettatore diciamo ideale che te vedi come la persona che appena esce il film di Andy Casanova ecco è motivata a guardarlo a vederlo e eventualmente a pensarlo quindi il tuo spettatore fedele diciamo storicamente oppure quello che oggi può approcciarsi verso le tue produzioni con più trasporto rispetto ad altri ecco è un po' quello che mi hai detto che ora forse c'è la persona un pochettino nostalgica forse no il giovanotto quello che ha insomma che poi vede tutti questi stivuti ripieni ecco però gli piacciono vanno di moda le prestazioni no eh triplo salto mortale con abitamento ora va di moda questo insomma che ti devo dire adesso ho provato ho provato anch'io guarda ho provato ho provato ad abbracciare per un breve periodo prodotti di questo genere no mi sono associato adesso non voglio fare i nomi però ho provato anche questa tipologia di esperienza mi è stata data la possibilità di ringrazio anche chi me l'ha data di potermi cimentare in prodotti di questo genere pagato come regista ho fatto un mese un mese e mezzo un'esperienza ma non era non era il mio filone non era adatto a questo tipo di ruolo e me ne sono ritornato a fare le mie cose come prima ho stoppato tu poi sai a chi mi riferisco ma insomma non mi va perché altrimenti sai si corre il rischio di dire hai sputato nel piatto dove hai mangiato io non sputo nel piatto assolutamente dove ho mangiato con nessuno è tutta esperienza sono e sono solo di belle scelte insomma quando una persona riconosce non essere adatta per girare determinate cose si arrende e dice io non sono adatto io non dico che diciamo quell'esperienza non era giusta io dico non ero adatto io a quel tipo di esperienza sembra essere un po' umili e cerco a scrivere le situazioni in una maniera più giusta certo sì sì quello senza ombra di dubbio è chiaro che in un contesto come questo insomma in un tipo di film come è il tuo o il tuo film diciamo ideale che sia ora horror che si va dalla parodia che si va dalla commedia al film di ispirazione tratto da tanti film che pur non essendo parodie te l'hai fatta come ispirazione di altri film e appunto si è citato questo qua dalle cinque chiave del tramonto ma il viale del tramonto no certo il tramonto insomma dovrebbe far scattare un attimino qualche 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 accende qualche lampadina nel nel cervello di chi conosce un po' il cinema e quindi tutte queste cose e in tutti questi contesti te l'attrice anche l'attore ma l'attrice viene valorizzata in un certo modo viene valorizzata come una donna di classe come una donna che fa sesso in un modo passionale e quindi in un certo modo ecco l'attrice gode di una certa figura che te piano piano costruisci nell'ambito dei film che gli affidi e che quindi insomma da queste esperienze un'attrice esce secondo me con una certa una certa signorilità una certa classe come si diceva prima a proposito di Tara Patrick che non è più ribadiamo il concetto non è più premiata questa classe non è più premiata come una volta anche perché le ragazze oggigiorno è giusto che sia anche così ma non è secondo me la cosa fondamentale soprattutto all'inizio ci sono degli step ben precisi però sono molto mercenari oggi oggi se tu fai un discorso ad una ragazza di qualità ad iniziare facendosi vedere in un certo modo piuttosto che in un altro da qui gli entra e da qui gli esce una volta invece capivano il perché venivano gestite in un certo modo io mi sforzo tutt'oggi no a spiegare loro a delle ragazze che magari possono avere le potenzialità per emergere tra virgolette perché adesso il mercato è saturo ci sono ragazze anche dell'est in continua rotazione gli dico fai all'inizio pochi film ma di qualità che ti consentono poi di guadagnare parecchio anche poi in quelle altre produzioni dove effettivamente magari hanno un guadagno superiore perché fanno i tripli salti mortali con abitamento perché anche queste case di produzione una volta viste queste attrici il loro percorso di qualità hanno una certa soggezione che consente loro di fare delle proposte superiori perché sanno che sono state gestite molto probabilmente in una maniera migliore superiore hanno un valore aggiunto quindi se fossero invece le trovassero da scene old sex di bassa caratura o di estremo non farebbero delle proposte a rialzo ma forse sarebbero soltanto a ribasso gli darebbero già un depreciamento organico ecco io ve le dico ragazze facciamo pochi film facciamo due datemi due o tre film io dico sempre così alle ragazze quelle diciamo quelle che secondo me potrebbero avere un certo successo datemi due o tre film non ne chiedo di più facciamo due o tre film fatti di qualità dopodiché andate con chi volete però ad un prezzo chiaramente superiore e anche io posso in un certo qualsiasi darvi questi contatti poi utili però partire con le basi buone secondo me sono alla base attrici attrici tu volevi chiedermi anche le attrici con cui io mi sono trovato meglio nel passato sei riuscito a valorizzare come ti proponi quindi l'esperimento dove è che ha avuto successo perché chiaramente gli esperimenti che hanno avuto maggiormente successo sono stati come dicevo prima all'inizio dell'intervista con sicuramente Letizia Bruni che poi è diventata anche la mia compagna ma quando la conobbi era fidanzata con un'altra persona che me la fece anche conoscere quindi il discorso non era sospetto cioè non è che ha seguito il mio diciamo percorso perché era mia fidanzata lo ha seguito perché era una persona comunque molto intelligente e di spessore tant'è vero che anche quando si è poi ritirata dal porno lo ha fatto con la stessa intelligenza ed è continuato comunque poi a lavorare anche in un settore completamente normale e ottenendo sempre successi anche lavorativamente parlando anche in un lavoro diverso normale quando una persona intelligente una persona ha un diciamo un quantum superiore e lo esprime in qualsiasi cosa lei faccia nella vita quindi Letizia Bruni sicuramente a livello di recitazione per me è sempre sarà sempre la numero uno poteva fare anche io gli ho sempre detto ma poteva fare cinema anche normale chiaramente non è facile entrare in quei circuiti soprattutto poi da chi proviene da questo settore un'altra a cui sono particolarmente legato e che ha avuto comunque molto successo non solo poi in Italia dopo aver girato i miei film ma anche all'estero è stata Evita Pozzi a cui io ho dato anche il nome artistico e il percorso voi lo conoscete tutti insomma ha lavorato anche con case di produzione americane fra le più importanti e anche lei è una persona che ha saputo dare molto all'hard ma in maniera intelligente in maniera intelligente non volgare di classe l'ultima che mi sento di citare diciamo nel passato recente il passato recente nonostante le difficoltà iniziali sue linguistiche ma che poi si sono risolte è stata anche Rossella Visconti Rossella Visconti è venuta da me 7-8 9 anni fa adesso non mi ricordo io con le date lo sai non riesco a avere riferimenti infatti è vero che mi sento ancora quel trentenne che ha iniziato la sua carriera quindi mi sento sempre ragazzino non lo so sono conscio di non esserlo ma mentalmente sono sempre quel ragazzino che ha iniziato a 30 anni questo lavoro è una ragazza molto 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 intelligente una ragazza che si è sempre messa alla prova ha cercato sempre di superarsi che è rimasta un po' delusa da questo da questo settore perché lei molto ha dato ma che oggi riconosce a volte di aver ottenuto un po' meno ma purtroppo perché comunque i tempi sono cambiati che avesse iniziato ecco vent'anni fa probabilmente il suo percorso sarebbe stato diverso comunque ha ottenuto tanti successi perché il percorso l'ha fatto tutto ha iniziato con me abbiamo fatto dei bellissimi film insieme e ha lavorato anche con il maestro perché a lui piace insomma farsi chiamare così a me mi dà fastidio che fa mi chiamare maestro ma mi dico maestro c'ho l'orticaria mi comincio a prudere quando mi danno il maestro anzi vedi lo sto già facendo c'è qualcuno che ti chiama online il maestro ecco io non mi recuto un maestro io ho un format il mio modo di girare mi sono creato diciamo da solo ho sbagliando ho imparato la tecnica chiaramente guardando e comunque andando sui set guardando un pochettino le produzioni di Silvio Bandinelli scoppiazzando qua e là ascoltando i suggerimenti guardando i film appunto del maestro Mario Salieri stavo dicendo che Rossella Visconti ha lavorato anche con il maestro Mario Salieri quindi insomma ha lavorato con tantissime case di produzione anche estere a Praga Budapest ha lavorato per produzione americana quindi il suo percorso lo ha completato una persona che comunque non vive solo appunto con l'art col porno ma si mette in continuazione in suggeriscimi tu in discussione a volte non mi vengono i termini Alessio aiutami a volte non mi vengono più le parole e quindi insomma si dedica anche ad altre attività che non so se faccio bene a dirle o non dirle quindi a scanso dei privici non le dirò ma comunque fa anche altri 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 lavoro oltre al porno quindi complimenti un applauso tanto so che poi la vedrà questa intervista o se la rispondi ma senza altro molto molto brava e poi le altre sono non voglio tralasciare nessun altro perché il successo sono stati anche il successo devo gratificare tutte quelle che hanno collaborato e realizzato insomma i miei film che sono all'interno delle mie trame quindi io ringrazio tutte indistintamente ho citato quelle che mi hanno dato un pochettino più spazio di questo metodo di questo format appunto che te hai di questa formazione di questo metodo formativo che te hai che sicuramente è andato bene per alcune attrici perché hanno avuto la pazienza e la disposizione d'animo di ripestarsi a questi tuoi tempi che sono in tempi basati per la costruzione di un personaggio un personaggio che è costruito poi dopo attraverso i film poi è successo nell'ambito delle serate del mondo mi devi perdonare mi devi perdonare ti devo solo interrompere perché io purtroppo si vede che l'età avanza qualcosa qualcosa tralascio no un'altra un'altra affezionata è Lara De Santis certo eccezionale spettacolare forse è talmente è talmente amica è talmente diciamo sembra quasi erano quasi parenti diciamo perché abbiamo vissuto mille avventure che è un po' come anche su ZQ che magari ecco appunto ho avuto modo di collaborare ampiamente ecco insomma sono ecco non magari non le ho citate perché sono ancora più strette diciamo ancora più le sento ancora più legate a me quindi tralascio a volte no? tralascio gratifici gratifichi gli esterni e non gratifichi chi hai in casa in casa tua ecco quindi Lara De Santis spettacolare buono star internazionale Susi Q e tailandesina simpatica insomma chiaramente con i limiti della lingua perché sai benissimo che il tailandese non è non è per una tailandese non è facile comprendere parlare in tailandese quindi con tutti i limiti però mi ha venduto mi ha fatto vendere molti prodotti insomma quindi molto molto va bene scusami questa parente segniamo la sicuramente perché in ogni caso appunto si ricollegava sempre al discorso che facevo prima quindi dei tempi che oggi inevitabilmente vengono a a mancare perché appunto c'è questa fretta diciamo si bruciano le tappe e non si crea poi il personaggio quindi il personaggio va a finire prima ancora di essere stato creato insomma e il personaggio viene creato da qualcuno da un'intelligenza in questo caso può essere un regista può essere un manager può essere qualsiasi qualsiasi persona che oggi come oggi effettivamente se ne vedono po' insomma sia di persone capaci di creare questi personaggi sia di personaggi che vogliono farsi creare perché c'è un po' questa forza questa febbre dell'oro questo per quanto riguarda le pornostar o comunque le ragazze diciamo per quanto riguarda i ragazzi prima ti hai anticipato un po' le può essere un po' il problema e quindi cosa si può dire sui maschi ma di disastro adesso è un disastro assoluto stai godendo tu c'è un'espressione quasi beffante mentre sto dicendo disastro no vabbè sai io vengo da tempi dove c'erano Omar Gananti Francesco Malcolm Fausto Moreno Marco Nero Leonardo Conti con cui sto collaborando ultimamente della vecchia guardia ma che si sta riproponendo poi sembra quasi intatto immacolato sembra che non sia mai passato il tempo gli anni per lui quindi continuiamo a collaborare in Italia appunto ne ho citati due sono rimasti Marco Nero e Leonardo Conti altri si sono ritirati quindi non saprei ma penso che insomma problemi non ce ne servono ma si sono ritirati gli altri hanno prestazioni scadenti a volte vengono da me e mi dicono sai ho fatto l'accademia sono stato da Rocco si freddi come se fosse quasi una garanzia di essere stato all'accademia da Rocco e Rocco lui è dato da una possibilità a questi attori di potersi esprimere ma non è che passare da lì significa poi avere continuità lavorativa perché molto spesso diciamo un 80% di questi attori non sono idonei quindi diciamo che ho la fortuna che facendo film con trama riesco a prendere il punto debole diciamo di questi attori e farli recitare nei miei film e se anche le prestazioni non sono accesse a me stanno bene comunque perché l'eccitazione fondamentalmente a cui io vado incontro è un'eccitazione psicologica quindi avendo creato poi la situazione anche se poi non ci sono quegli effetti speciali che noi conosciamo bene e cui abbiamo parlato prima il film comunque piace al mio pubblico piace dipendentemente da alcuni defiance che questi attori possono avere ma possono lavorare solo con me perché dopo aver fatto tutto il giro delle quattro chiese io chiamo aver provato un po' tutte le prestazioni le prestazioni sono sempre quelle perché loro mettono sempre a volte i sottotitoli ma sai perché io quel giorno lì ero particolarmente stressato e no perché sai lavorare con te Andy non è facile a questo sicuramente non è facile lavorare con Andy Casanova ma un attore veramente performante e quelli che ho citato sono quei due sono Marco Nero e Leonardo Conti come quegli altri del passato non avevano problemi di girare con me andavano dritto per la loro strada il caldo il caldo il freddo la ragazza antipatica ma ragazzi ma i sottotitoli nei film non ci sono io non posso giustificare delle prestazioni scadenti con dei sottotitoli se sono scadenti sono scadenti ammettilo e basta ti chiamo lo stesso ti do un'altra possibilità non è un problema ma non trovate giustificazioni che mi fanno ancora più incazzare perché quando c'è il sottotitolo io mi incazzo e lo ripetisco mi incazzo per modo di dire simbolicamente non è che mi rabbio magari quando ripeto le cose soprattutto nella recitazione ecco sono molto più esigente lì rispetto magari alle performance perché poi le posizioni sono sempre quelle 4 o 5 non cambiano mai sono ripetitive che volevi sapere l'altro voglio dare dei consigli ragazzi se non siete adatti in sto settore state una casina vostra non mettetemi a rompere le palle in continuazione io voglio fare i film poi un sogno della mia vita è il sogno di ogni uomo sapete quante mail mi arrivano quotidianamente decine e decine di aspiranti attori che vogliono fare attori mettetevi in gioco volete partecipare finanziate voi la scena ma perché io devo andare a pagare un'attrice io dico a questi attori tu provi tu vieni qui vieni da me e vuoi provare ma provare cosa significa io un'attrice la devo chiamare lei vuole i soldi io la devo pagare devo pagare la location il mio tempo io ci metto ore ore per girare per creare una situazione lavorativa poi dopo se tu non funzioni cosa faccio io l'attrice la devo pagare comunque la location butto via i soldi no investi tu tu dici di essere performante continuano a ripetermi che loro non hanno dei faian non avranno dei faian credimi Andy non ci sono problemi io vado anche nei club privé come se quello potesse garantire le loro prestazioni davanti a una telecamera ragazzi è diverso è diverso girare davanti a una telecamera è diverso quando la situazione te la crea il regista e non te la crei tu cercate di capire questa cosa e poi dopo ma sai mi chiedono i soldi ho capito mi chiedono i soldi ma tu crei dei danni se tu vai su un set e non funzioni cosa hai fatto? hai creato un danno sì sì quindi cioè volete mettervi in gioco finanziate una scena andate da un regista non dico di venire da me assolutamente provate anche altre strade ci sono altre produzione anche minori produzioni easy andate e vi mettete in gioco ragazzi fate un discorso del tipo non so io finanzio la scena se va bene mi ridà i soldi quindi sono contenti tutti contento il regista perché se è andata bene la scena ti ridà anche volentieri indietro i soldi che tu ci hai messo se non è andata bene la scena chiaramente è stato un investimento sul tuo ipotetico sogno che non si è realizzato ma almeno nessuno ci ha perso nulla né il regista né l'attrice chiaro? sì certo perfetto quindi ragazzi pensateci su molto bene non è un lavoro semplice lavoro non è una passione semplice perché non è un lavoro una volta forse era un lavoro adesso è una passione un hobby vedetelo come quello perché poi grandi margini di guadagno non ce ne sono in Italia soprattutto all'estero può darsi ma è difficile entrare in quelle produzioni quindi uno su cento uno su mille ce la fa ad arrivare a realizzare il sogno che questo tipo di attività possa diventare un lavoro ma altrimenti rimane solo un hobby ti credo sai che c'è gente c'è gente Alessio scusami se ti interrompo è che a volte mi contatta e mi dice guarda sono rimasto senza lavoro quindi pensavo di venire da te e fare porno no ragazzo trovate qualche altra cosa ma non venire di certo a fare porno pensando di di avere alti guadagni perché non è non è così grazie a tutti grazie a tutti